questo disco che è venuto fuori senza volerlo ho scoperto ascoltandolo poi alla fine che tutte queste canzoni parlano di una resistenza di resistere a questo momento a questo momento difficile e ognuno cerca una sua via d'uscita ecco perché è way out una sua via d'uscita ognuno con una canzone d'amore piuttosto che una canzone sul sociale o c'è l'arancione che è dove c'è anche la guerra e questo mi ha fatto bene perché sapere che oltre il cielo ci sono ragazzi anche molto giorni che scrivono canzoni e si accorgono già di una crisi e cercano di uscirne in qualche modo che è una crisi ormai esistenziale una crisi di valori non è solamente il non avere più denaro da spendere ma è proprio come un domino un domino una specie di uomini negativi che piano piano sono arrivati dentro di noi in questi anni e che ci portiamo addosso ma la ricerca è importante cercare cercare negli altri cercare dove ci piace di più nella nostra musica piuttosto che in un libro o in qualche qualche cosa di misterioso però cercare e trovare una via d'uscita perché una via d'uscita bisogna poter trovare grazie 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 grazie